Valoto S.P.A. è nel mercato dell'agricoltura dal 1966. Durante il nostro percorso abbiamo fatto varie sperimentazioni a livello internazionale e all'incirca verso gli anni 2000 è nata una partnership con Novamont. Novamont è un'azienda all'avanguardia per quanto riguarda la produzione di polimeri biodegradabili e compostabili e abbiamo trovato l'applicazione di poter fare delle culture all'interno dell'agricoltura. Il nostro prodotto fatto con il Mater B, che è ormai un nome, un marchio garantito e garantibile, è un prodotto con spessori molto ridotti che viene steso sul terreno in maniera automatica, meccanica e poi viene lasciato all'interno del terreno. Cos'è la cosa importante di questo materiale? È che riesce a far fare delle culture forzate senza doverlo poi tirar via e dover andare in discarica. Quindi questi materiali stanno avendo degli sviluppi continui dall'anno 2000, 2005 fino a oggi, 2018. Oggi la nostra azienda quindi vende questo materiale anche su mercati esteri e su mercati innovativi tipo il Kiwi in Australia e in Nuova Zelanda e questo per noi è molto importante. È un materiale facilmente lavorabile ed è un materiale che oggi è diventato di comune utilizzo.